allora la mia amica la voleva vedere però io si aspettavo lei signora ma vi piace a voi questa? questa no non mi piace signora ceciata nemmeno a me questa signora da dove viene? questa bellissima donna ma guarda la va questo vi piace? ho metto ad andare pure questa a voi tutto a posto? vi sto prendendo e poi non sapete niente a chi c'è divenuto questa barbola? mamma mamma dillo dillo questa è la nostra vecchia clienti amiche ora stiamo organizzando questa signorina te l'ho detto questo te l'ho detto il prezzo questa si no ma poi sapete che dicono chi vende poco prezzo è perché la roba non è qualità non hanno capito che è niente così perché da mente che ne teniamo abbondanti la roba potremmo fare i prezzi che puliamo noi facetemi vedere questa aca facetemi vedere questa aca ma volete il caffè? si io lo prendo lo vedi? guardate guardate aca e si andiamo aca aca e la cazzo questa questa ti piace? aca 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 Sì, a me sì, tutta qua. Questa ti piace? No. No. Questa ti piace o no? No. No. Non è meno. Questa ti piace o no? Basta, non ci faccio stare atti, vai. No, non ci faccio stare atti.